Allora in quanto, quando lei si riferisce tu sei andata in televisione a cercare l'amore, questo non è vero perché io, Chico, è vero che l'ho incontrato in questo studio, ma non è che lui è venuto a corteggiare me o io in quel momento ero sul trono e cercavo l'amore, è stato un colpo di fulmine, ci siamo innamorati, ma io non ho fatto come lei, cioè uno mi è capitato, quello ho sposato, con quell'uomo ho fatto tre figli, poi è finita, ma è tutto là, io qua dentro non ho avuto altre relazioni. Non è che io ogni quarto d'ora cambiamo uomo, capisce? Non sono stata qui dieci anni a elemosinare un uomo o l'amore, quello che è nato tra me e il mio ex marito, Chico Nalli, è nato, mi ricordo che io ero seduta qua e lui era seduto al posto di Nicola. Ora per carità non credo che possa risuccedere la stessa cosa, infatti, da sguardi cose è nata questa intesa, ci siamo frequentati, ma c'è stata una storia importante, un matrimonio che è durato quasi 18 anni, capisci? La cosa è diversa, tu sei venuta in televisione a cercare l'amore, no, perché io non sono venuta a cercare proprio niente, è capitato, è lei che neanche è venuta a cercare l'amore, è venuta evidentemente a cercare altro, basta.